Metti una sera a cena, era un film del 1969 di Patroni Griffi con Floridla Bolgan, Jean-Louis Trentignan, Lino Capolicchio, ma mi colpì moltissimo il titolo Metti una sera a cena, perché mi viene in mente tutte le volte che vado a cena, come ieri sera, con Alessandro Meluzzi. A Rimini c'era anche Andrea Muccioli, perché? Perché lui dice che si porta la telecamera, io prima di ordinare la cena, accendo la telecamera e non so tutti i racconti che Alessandro mi farà. Ieri sera gli ho fatto quattro domande, credo. Cosa succede? E mi ha parlato a livello politico. Poi gli ho detto a livello sociale e mi ha fatto tutte le recuperazioni. Poi gli ho detto religione e spiritualità. Queste sono le quattro domande che gli ho fatto. E questa è la lunga conversazione dove hai annunciato anche gli intenti futuri, quelli di toglierci tutta la proprietà. Guarda questa conversazione. Metti una sera a cena con Alessandro Meluzzi e Andrea Muccioli. Cosa sta succedendo? Cominciamo dai diversi piani di complessità della realtà. Piano politico, che è quello più legato alla crona, che è quello di cui è più facile parlare. Secondo me Giorgia Meloni, che oltre che essere furba, cosa che è giusto attribuirgli come una qualità, ha anche una sottile e pragmatica intelligenza politica. Dopo aver capito una cosa che, credo, qualunque persona che conosce la storia e si trovi a calcare il pavimento della cosiddetta camera dei bottoni, capisce al ruolo, che essendo la capo del governo di una colonia o di un protettorato, non può pronunciarsi su questioni, diciamo così, di carattere geostrategico generale. Cioè, per capirci, la guerra, la moneta, le grandi migrazioni, l'equilibrio dell'Europa, i rapporti con gli Stati Uniti, di cui siamo una colonia. Dobbiamo sempre ricordare che nel 1943, quando il generale Capello firmò, a nome della Corona e di Badoglio, un atto di resa incondizionata dell'Italia, la sovranità italiana si dissolse, non è stata da allora mai recuperata. Quindi, anche i protocolli firmati da De Gasperi nel 1946 prevedevano una cosa che gli storici ormai sanno, che per essere capi del governo, il Presidente della Repubblica, cioè il Capo dello Stato in Italia, di avere il placere dei servizi segreti americani e della Corona inglese. Quindi da questo non si è. Allora è chiaro che su questioni come Ucraina, pace, guerra, il governo italiano non può esprimersi. O se tenta di farlo, anche parzialmente, come è accaduto nei tempi di Craxi a Sigonella, o con Andreotti sulle politiche filo-arabe della democrazia cristiana, o non parliamo di Mattei, coloro che l'hanno fatto fanno subito una brutta fine. Anche Moro, quando decise di monetare 500 lire, non con la Banca d'Italia, ma con il tesoro. Quindi è chiaro che l'Italia è una colonia protettorale. La Meloni lo ha capito, cerca di galleggiare, cercando di fare alcune piccole cose di impatto che le consentono di poter dire alla sinistra che è l'unica vera alternativa che c'è per lei, non stiamo facendo grandi cose, ma perlomeno non stiamo facendo danni. Non abbiamo messo l'obbligo dei vaccini, cerchiamo di frenare sul tema dell'inflazione, facciamo questo carrello col 10% di sconto, cerchiamo di fare accordi persino col vituperato Macron che sta perdendo il suo impero francese sulle migrazioni, cerchiamo di fronteggiare parzialmente lo strapotere della Germania nell'Unione Europea e questo si può permettere di farlo perché ha fatto patti di fedeltà persino con i dem americani, abbiurando persino la sua simpatia per i repubblicani e per Trump, ma strizzando un po' l'occhio ad Orba, strizzando un po' l'occhio a Vox in Spagna, guardando comunque al governatore della Florida e degli Stati Uniti, però nulla di veramente importante, ma d'altra parte il capo del governo italiano per definizione non può fare nulla di veramente importante. L'alternativa a lei sarebbe un governo tecnico, preceduto da Visco, da Draghi o da chiunque altro, con l'appoggio dei 5 Stelle e della Schlein, allora è chiaro che la maggioranza dell'elettorato italiano per il momento si tiene la meloncina per quello che è, anche se forse la piccola simpatica gaulaiter della garbatella del protettorato e della colonia d'Italia e questa direi è la politica in questo momento. Né mi pare che i suoi alleati possano produrre troppi problemi, perché a parte un po' di competizione con la Lega, bisogna ricordarsi che il vero padrone della Lega non è Salvini, ma è Giorgetti, cioè quegli stessi ambienti massonico-economici che sono gli stessi che governano l'Italia, cioè quello dei Roci, dei Ruffelli, dei Soros, dei Bill Gates, che sono i padroni del discorso. Quindi su quel fronte non vedo grandi cambiamenti. Forza Italia è ridotta a un fatto residuale, col povero Tajani e C, e quindi non credo che da quel fronte verranno grandi novità. E quindi io credo che la Meloni, contrariamente a quello che ci potrebbe pensare, potrebbe durare. Questo per quello che riguarda la politica italiana. Su quello della politica internazionale ci sono due cose da ricordare. Una è che sul Niepr si combatte una battaglia di logoramento, non tra gli ucraini e i russi, che sono quasi la stessa cosa, ma tra la Russia, la Russia imperiale, la Russia degli zar, la Russia post-sovietica, e l'impero americano. Questa è la sostanza. È un confronto lungo, è un confronto asimmetrico, ma che ha ricordato al mondo che una visione alla Fukuyama, cioè che la storia è finita, e che c'è un'unica centrale di comando nel mondo, non ha funzionato. Quindi i centrali di comando nel mondo ce ne sono multiple, la Russia continua ad essere anche una grande potenza energetico, militare, anche se il suo PIL è quello della Spagna. Ma questo non conta, perché la ricchezza non si misura solo in scambi commerciali, ma in risorse energetiche, risorse militari, risorse territoriali, risorse alimentari. Da questo punto di vista, per il momento la Russia è ancora molto fuori. La guerra dovrà continuare. Certamente per i dem americani sarà un problema fare votare Biden o il governatore della California con una guerra semiperduta in atto. E quindi ci si può aspettare qualsiasi cosa, da questo punto di vista. Persino degli elementi di esacerbamento bellico dagli esiti imprevedibili. Perché con Sarajevo o con Danzica, bisogna ricordarci che nelle guerre mondiali nessuno vuole entrare, ma talvolta ci si cade. E questo potrebbe anche accadere. Quindi, su questo fronte direi che per il momento non vedo grandi novità. Non ci saranno grandi controffensive, non ci saranno grandi rese, perché la Nato non se lo potrebbe per ne mettere. Quindi si va verso una situazione di logoramento in cui il confronto sul Niepre è destinato a durare nel tempo. Però il problema non è che la partita non si gioca in Europa. Ma non si gioca solo in Europa. Si gioca a un livello planetario in cui la grande novità è data da un'aggregazione economico-geopolitica che mette insieme la Russia di Putin, la Cina, il Xi Jinping, l'India di Modi, il Sudafrica, il Messico, il Brasile in parte, l'Iran, parte del mondo islamico, financo i sauditi che erano dei vassalli della Nato e oggi non lo sono più. E quindi quel mondo che è stato definito dei BRICS, in cui se i BRICS cominciassero a demettere una valuta coperta dall'oro che è in grado di essere concorrente del dollaro per il mondo dei banchieri schienazziti che ci comandano, quelli che stampano moneta a debito impompandola nel mercato, secondo la politica che abbiamo visto, potrebbero esserci grossi problemi. Se ad un certo punto il petrolio, invece che essere comprati in petrodollari, si comprasse con valuta BRICS, gli equilibri geopolitici generali cambierebbero. Dov'è ricordare che i padroni del mondo in realtà sono i padroni di un pezzo di mondo, che include gli Stati Uniti, il Canada di Trudeau, include l'Europa tutta, include l'Australia, include parte dell'America Latina, include la Nuova Zelanda, ma non il resto del mondo. Quindi la maggioranza del mondo, sia in termini di abitanti, sia in termini di territorio, sia in termini di risorse energetiche, sia ormai anche in termini di prodotto interno d'orlo, non è comandata dai Rockefeller, dai Rothschild e dai Bill Gates. Ma loro non hanno potere in India, Cina? Non ne hanno tanto da potere condizionare il governo cinese, o il governo indiano, o il governo iraniano, come accade per l'Italia. Cioè noi abbiamo un tasso di sovranità immensamente più basso di quello dell'Iran o della Cina di Modi. E quindi da questo punto di vista direi che non ci sono i nomi di più. Bene, questo politico, a livello sociale come siamo messi? A livello sociale direi che gli italiani stanno piano piano esaurendo le loro risorse. Cioè gli italiani erano uno dei popoli più autofinanziati e più capaci di risparmio. E grazie a questo risparmio che ha consentito fino ad ora di alimentare un livello di benessere superiore a quello persino di popoli teoricamente più ricchi, come gli inglesi o come i tedeschi o anche come i francesi, e che hanno sempre invidiato il nostro stile di vita, la bellezza delle nostre case, la qualità della nostra alimentazione, il lusso della nostra moda, potrebbe piano piano esaurirsi. Per non tener conto che questo risparmio privato è stato tutto il fatto che in Italia, soprattutto la democrazia cristiana, ma soprattutto finanziarie di denaro emesso a debito, con maggioranze fatte contemporaneamente dalla DC e dal grande partito comunista di Gramsci Togliati, Longo Berlinguer, e anche con l'appoggio dei socialisti, sono state sempre politiche basate sul debito. In questo senso l'Italia è stata, ha preconizzato, ha preceduto quella che sarebbe diventata la politica del denaro emesso a debito e che ha avuto una soprattutto d'arresto soltanto con l'euro, nel quale per evitare che la nostra concorrenza col prodotto industriale tedesco diventasse reale, i tedeschi hanno dovuto inchiodarci ad una moneta che non era la nostra, che era sostanzialmente una variante del marco l'euro e con cui gli italiani ci sono trovati a pagare un chilo di zucchine dopo una settimana il doppio di quello che lo pagavano e oggi quattro volte tanto. Voglio ricordarti che oggi una pizza si paga 12 euro che vuol dire 24.000 lire. Una pizza una volta costava a dir tanto 5, 6, 7 mila lire. Quindi il costo di una pizza è cresciuto anche rispetto alla capacità di acquisto dei salari e degli stipendi di 4 o 5 volte. Questo è un segnale di impoverimento. Quando poi vedi la crescita dei costi di energia, la pressione fiscale sempre più insopportabile, la pressione dei costi di vita sempre più alta è chiaro che fare un po' di campagne pubblicitarie come fa la Meloni anche su numeri risibili come un risparmio del 10% sulla spesa dei beni essenziali che però è un atteggiamento un po' demagogico ma che almeno dà un po' di fiducia agli italiani. Fa pensare che qualcuno sta pensando alla loro crescente miseria. Quando i conti dei risparmi saranno finiti si tratterà di vedere se il governo consentirà quello che il progetto del World Economic Forum di Davos che il Grit Reset che la quarta rivoluzione industriale di Scialba ha previsto c'è un rastrellamento dei beni immobiliari degli italiani che sono gli unici che interessano il grande capitale perché i fondi Waguard e Black Rock i fondi cinesi e anche i fondi come dire europei sono interessati alle piccole case che ci sono dietro Piazza di Spagna alle case che ci sono intorno a San Babila Milano sono interessati agli alberghi e agli appartamenti sono sul lungomare di Rimini e quindi cominceranno a corrastrellare le spiagge perché la politica di Bolkenstein è un test per vedere quanto la gente è disposta a farsi erodere la proprietà privata ma se passeranno con Bolkenstein passeranno alle case alle cascine alle ville partendo dal presupposto della legge Macron già in Francia passata che si dice che è vero che tu puoi avere un immobile che hai costruito tu ed è tuo ma che la terra su cui hai costruito è comunque dello Stato e quindi si passerà all'inizio dalla politica della proprietà alla politica delle concessioni esattamente l'opposto all'incontrario di quello che accade in Francia con la rivoluzione francese quando la nuova classe degli artigiani dei professionisti impose allo Stato che ancora funzionava con le concessioni di chiamare quella roba non concessione della nobiltà o del clero ma proprietà e quindi libertà galità fraternità dovremmo dire libertà galità fraternità proprietà noi la proprietà adesso la perderemo se il progetto di Davos va avanti e il disegno sarà quello che loro già mettono nei libri di testo io ho appena letto e postato un libro di testo del figlio di Riccarda che fa il liceo dove c'è scritto una lettera di un documento di Davos che i studenti devono studiare e dice ci sarà ancora nel 2030 la proprietà privata e la risposta è no e loro sono felici perché dicono non pagheremo i trasporti non pagheremo il cibo che ci verrà dato così con il sereo di cittadinanza non avremo neanche la casa avremo una casa ad uso comune in cui quando io sono fuori in bicicletta qualcuno potrà fare una festa nel mio soggiorno capito un po' come nella Cina della rivoluzione industriale perché ridi Aterea il progetto è questo no no ma io l'ho letto l'ho letto i documenti lo mettono no no ma dicono che è una cosa bella pensate com'è bello non devi più lavorare non devi più dice stai tranquillo lì dice tutto è bellissimo ma è un paradiso in terra non hai bisogno della macchina quando hai bisogno la prenoti te la portiamo ma anche le pentole non la macchina le pentole ah le pentole ah non hai bisogno delle pentole ah è vero le prenoti te le porta come Giustino quando tu non usi la pentola per cucinare il tuo vicino di letto al castello la usa come vaso da notte come vaso da notte no ma non solo ma quando tu sei fuori nel tuo salotto può venire un altro a fare delle riunioni l'ha scritto si l'ha scritto lo so l'ha scritto e chi è il primo che ha iniziato a parlare di questo Karl Marx ebrea eschenazista che ha detto che la proprietà privata questa è la vecchia degli eschenaziti perché i popoli devono essere cancellati dal piano Calergi di popoli deve rimanere uno solo sappiamo quale bene a livello spirituale a livello spirituale accadono tante cose nel mondo delle religioni io come sai sono un ortodosso di obbedienza copto eritrea etiopica quindi una chiesa ortodossa antico orientale che ha circa 100 milioni di seguaci la seconda per numero dopo la chiesa russa quindi non entri neanche tanto nella corella ortodossia russa chirille pace guerra certamente la battaglia che si sta svolgendo in Russia è una battaglia epocale tra una rappresentazione del mondo che è quella materialista LGBT di distruzione della famiglia di distruzione del rispetto della vita che ci stanno veicolando ormai da una cinquantina d'anni sul mainstream in modo martellante la chiesa cattolica fino a benedetto decimo sesto ha tentato di resistere ha resistito oggi come dire la chiesa ha avuto una diciamo così un'oppa aggressiva fatta dalla massoneria schienazita che ha ridotto con Bergoglio la chiesa a una specie di ONG pseudo ecologista secondo il modello grettino Greta Thunberg e quindi l'attuale papa è un propagandista di questa roba qua quindi la chiesa cattolica mi sembra in una dimensione residuale da questo punto di vista però sai la chiesa in senso vaticano però ci sono tanti buoni preti qualche vescovo silenzioso e spaventato qualche coscienza ribelle come Monsignor Viganò come Don Minutella che vedrò domani a Milano quindi c'è una linea di resistenza anche dentro la chiesa cattolica la chiesa cattolica ha una dimensione talmente verticistica talmente piramidale che una resistenza dentro la chiesa è difficile perché una chiesa che ha celebrato con più o nono l'infallibilità del papa è difficile come dire che possa avere nella resistenza al papa un'affermazione di ortodossia preso il vertice preso tutto come nell'OMS come nell'ONU come nell'UNESCO come in tutti gli organi internazionali di cui questa elite fatta a 200 famiglie ha preso il controllo e quindi a questo punto nel mondo delle religioni accade un po' di tutto nel senso che le chiese ortodosse sono molto schierate con il sovranismo e con la difesa dei popoli le chiese protestanti sono all'opposto orientate gli evangelici in particolare ad una cordone e ad una cinghia di trasmissione della CIA e dei poteri dei servizi segreti americani coloro che hanno svolto da sempre in America Latina e altrove però io te ho chiesto della spiritualità e tu mi sei andato sulla chiese per religioni spiritualità e religione ma io sono partito dall'aspetto diciamo così fenomenologico visibile della spiritualità veniamo alla spiritualità allora spiritualità è un fenomeno basato sulla coscienza la coscienza è un fenomeno come ci ha spiegato bene faggin inafferrabile è quello per il quale l'intelligenza artificiale non sarà mai un'intelligenza perché sono artificiale perché dopo che ha fatto un discorso non è neanche in grado di capirlo quindi la coscienza è un fenomeno impalpabile metafisico ed è non un supernatante della materia ma forse addirittura la materia è un'emanazione della coscienza e dello spirito quindi in questo ribaltamento dove sta andando la coscienza lo sa soltanto la coscienza ma siccome la coscienza è una coscienza per sua stessa natura individuale e quindi forma delle gregole di pensiero occasionalmente queste coscienze individuali sicuramente vivono con resistenza agli orrori che ci sono stati proposti come la normalità i figli di due padri gli uteri in affitto l'ingegneria genetica capito? cioè tutto quello che si è stato venduto come il gran ghignol della modernità si rivela in realtà un luogo degli orrori per la coscienza però la coscienza per sua stessa natura è personale e quindi esita nella morale ma la morale è un fatto individuale e quindi le mille milioni di morali che formano la coscienza collettiva sono disperse anche perché vengono guidate anche da meccanismi patologici cioè il demonio da questo punto di vista funziona bene attraverso i media attraverso la seduzione attraverso la comunicazione attraverso l'illusione che ti fa credere che dei cocci di vetro che in cui se li stringi ti tagliano le mani i sanguini siano dei diamanti preziosi e questo ci viene venduto come libertà autodeterminazione conquista dei diritti eccetera 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 quindi la coscienza è una barriera labilissima per la difesa del bene della politica spirituale perché la coscienza dovrebbe sortire nell'etica che è una coscienza condivisa da un gruppo da una comunità da tante persone però ci può essere un'etica senza un etos condiviso cioè senza un senso comune condiviso come nelle società tradizionali gli anomami sanno perfettamente quella loro etica gli antichi cristiani sanno perfettamente quella loro etica i protestanti del quacero pen e del mary flower che hanno negli Stati Uniti spero benissimo quella era la loro etica così come la sapevano come dire persino i papi corrotti del rinascimento come Alessandro Borgia no che Papa Borgia che Alessandro VI che era probabilmente un assassino era un incestuoso ma fece l'angelus e fece anche il trattato di Tordesillas per mettere pace tra la Spagna e il Portogallo quindi voglio dire quando ci sono ancora dei valori condivisi ci possono essere degli uomini potenti corrotti ma ancora ispirati da un'etica del bene e quando non si sa più che cos'è l'etica che sei nel caos totale e quindi un'etica senza etos diventa difficile ad essere etica perché è difficile avere un'etica senza un etnos senza un popolo perché i popoli hanno sempre saputo che cosa era meglio ma adesso i popoli sono una categoria in disarmo così come la sovranità dei popoli come le nazioni come le chiese come le comunità e quindi ci si deve rifugiare per forza nella legalità ma siccome la legalità viene messa da quelle stesse agenzie come l'Unione Europea come l'ONU come l'OMS che sono i portatori degli aspetti più luciferini e diabolici di questa partita è chiaro che la partita è difficilissima ma andrà giocata fino in fondo e sarà una grande partita che siccome è pilotata da energie e da potenze che non sono di questo mondo come dice Paolo Di Tarcio che dice che la nostra battaglia non è solo una battaglia in questo nostro mondo ma è una battaglia tra troni potestà e potenze celesti che si svolge nei cieli e quindi noi sentiamo l'eco di questa battaglia se poi questa battaglia è una battaglia che riguarda come pensi tu e come pensa la Tonini i popoli extraterrestri che ci abitano io questo non lo so sinceramente però devo dirti che siano extraterrestri che siano angeli o che siano quello che vuoi tu certamente quello che avviene in questo momento nel mondo non è frutto esclusivamente dei banchieri che ci governano seppur posseduti dal demonio e neppure di quelli che cercano di resistere ma è una battaglia in cui c'è in gioco il futuro di questo pianeta il futuro di questo universo e in qualche modo anche il futuro della presenza di Dio nella storia perché la presenza di Dio nella storia veicolata dalla Vergine Maria madre di Dio e madre nostra della Teotocos è una dimensione nella quale il figlio Gesù Cristo vero Dio e vero uomo parola definitiva del padre agli uomini non è stato mai aggredito nella storia come in questo momento però è un Dio Dio cristiano un Dio innamorato della libertà tanto pazzo d'amore per la libertà da voler essere amato da uomini liberi come lui liberi di amarlo e liberi di non amarlo tanto da crocifiggerlo se necessario e quindi questo Dio d'amore alla fine probabilmente verrà e ci salverà e questo sarà la parusia il grande ritorno in cui il bene e il male si divideranno una volta per sempre e forse non finirà la terra non finirà il mondo ma cieli e terre nuove sorgeranno come dice il libro dell'Apocalisse e la nuova Gerusalemme celeste scenderà dal cielo come una sposa adornata per il suo sposo per le grandi nozze dell'agnello che sono quelle che aspettiamo un po' di team moltissima che succedere il mondo che succedere un canale l'agre